La sfida che cattolici e vetero-cattolici devono affrontare è quella di perseverare in un sostanziale dialogo teologico e di continuare a camminare insieme, a pregare insieme, a lavorare insieme in un più profondo spirito di conversione a tutto ciò che Cristo vuole per la sua Chiesa. Nel cinquantesimo anniversario della promulgazione del decreto sull'ecumenismo del Concilio Vaticano II, Unità, Tissere ed Integrazio, Papa Francesco ha incontrato in Vaticano una delegazione della Conferenza Internazionale dei Vescovi Vetero-Cattolici dell'Unione di Utrecht, ribadendo l'urgenza dell'unità tra i discepoli di Cristo. Nel corso dell'incontro il Pontifici ha sottolineato che in passato da entrambe le parti ci sono stati gravi peccati e mancanze umane, ma che oggi in uno spirito di reciproco perdono e di umile pentimento bisogna rafforzare il desiderio di riconciliazione e di pace. Nel mondo infatti c'è sete di Dio, c'è un profondo desiderio di riscoprire il senso della vita e conseguentemente c'è un urgente bisogno di una testimonianza credibile delle verità e dei valori del Vangelo. L'anima dell'ecumenismo, ha concluso Papa Francesco, consiste nella conversione del cuore e nella santità di vita insieme con preghiere private e pubbliche per l'unità dei cristiani.